carri blu terrier al centro del ring segue l'american staffershire bull terrier staffershire bull welsh terrier dandy dimont scottish terrier west island white terrier yorkshire terrier una selezione carri blu bull terrier welsh terrier scottish e westin si prepara il quarto raggruppamento è il quinto nel pre ring grazie a tutti gli altri grazie a tutti 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 i movimenti singoli soggetti dopo il carri blu e il bull terrier è la volta del welsh terrier questi movimenti è il west island white terrier è la volta dello scottish terrier e chiudiamo con il fox terrier a pelo liscio sempre tre premi a disposizione grazie a tutti domani andremo meglio invitiamo il vice sindaco al podio per presentare i premi terzo posto per il welsh terrier secondo posto per il carri blu terrier e vince lo scottish terrier e vince lo scottish terrier grazie a tutti